Vi ripropongo la traduzione rielaborata di uno dei primi video che ho postato sul canale Dino Tinelli il 16 aprile 2016. Come tracciare il sole. Salve amici della Terra Piana, sono Zach. Bene, la National Security Agency è in grado di rintracciarti usando tre ripetitori telefonici. La tua posizione può essere individuata molto accuratamente da qualcuno in grado di misurare la triangolazione dei tre ripetitori. Ora il mio punto è perché non usare la stessa tecnica per localizzare il sole e il suo percorso. Ovviamente non abbiamo i tre ripetitori ma qualcosa di simile, i raggi del sole, in altre parole l'elevazione degli angoli. Possiamo fare lo stesso sia su un globo che su un piano. In questo video vado a mostrarvi come tracciare il sole su un piano. Pertanto se credi che la Terra sia un globo, questo video non fa per te, non sprecare il tuo tempo guardando il video. Per chi sa che la Terra è piana, esiste un modo per creare un modello della Terra reale. Se creiamo questo modello in maniera perfetta, nessuno può contraddirsi. In questo video vado a mostrarvi alcune cose, come localizzare il sole, come misurare la distanza del sole e come misurare il percorso del sole, oltre a misurare la velocità del sole. Tracciare il sole può aiutarci a conoscere un sacco di cose. La cosa più importante che possiamo fare è iniziare a disegnare una mappa curata della Terra piana. No, non è possibile, dobbiamo aiutarci a vicenda. Parlerò di questo in un secondo tempo, ma non preoccupatevi. Non rigetto la Terra piana solo per il motivo che non sono in grado di disegnare la mappa della Terra piana. È come un puzzle, ma sono un grande amante dei puzzle e per andare al sodo permettetemi di mostrarvi un piccolo esperimento che ho fatto a casa per essere sicuri che la mia idea sia valida. Ma prima di mostrarvi l'esperimento ve lo spiego. Quello che ho fatto è misurare la distanza dalla lampada al piano misurando l'elevazione degli angoli di tre punti ed inoltre la distanza fra essi. Avrei dovuto usare una bussola per conoscere la direzione della lampada, ma non l'ho fatto perché sarebbe decisamente complicato e non sufficientemente preciso misurare le lunghe distanze come la distanza del Sole o di tre nazioni. Avremmo bisogno di persone con la bussola in ogni parte della Terra per disegnare una mappa accurata della Terra? Questo ve lo spiego in un altro video, per ora torniamo all'esperimento. Quindi andiamo a disegnare questo in AutoCAD dove conosciamo solo le distanze di tre punti e l'elevazione degli angoli. Dobbiamo escogitare qualcosa che vada a sostituire le bussole ed io ho una valida idea. Questi sono i tre punti. A, B, C. Adesso ho bisogno di posizionare tre oggetti in ogni punto per ottenere l'ombra e misurare l'elevazione degli angoli. Vado a misurare la distanza di tre punti ed ora questa linea che va alla lampada. Ma con AutoCAD non possiamo conoscere la direzione dell'ombra, pertanto quello che vado a fare adesso è disegnare un cerchio col raggio di questa ombra. Vado a fare la stessa cosa con gli altri oggetti. Ogni linea che traccio dal cerchio la sommità dell'oggetto ci può portare verso la lampada, ma per localizzarla dovremmo tracciare milioni di linee per ogni cerchio e solo tre di queste linee andranno ad intersecarsi in un punto esatto che sarà la lampada. Per evitare di tracciare milioni di linee vado a disegnare una forma come questa e in AutoCAD appare così. Capirete meglio quando la vedete in AutoCAD insieme a me. Andiamo avanti con l'esperimento. Siamo qui, accendiamo la luce così potete vedere meglio. Posizioniamo i tre accendini sui tre punti bianchi A, B, C e vengono posizionati in questi punti per misurare perfettamente la distanza. L'ho già fatto ma desidero mostrarvelo per permettervi di capire bene quello che succede dopo. Uso le distanze e le ombre per ricavare l'elevazione degli angoli. A questo punto vado ad inserire le misure in AutoCAD eccetto l'altitudine della lampada che andremo a localizzare usando l'elevazione degli angoli. Questo per il motivo che la lampada è come fosse al posto del Sole. Immaginate la lampada come fosse il Sole e i tre accendini come fossero dei ripetitori. Prendiamo per esempio la luce della lampada come fosse un segnale mobile. Tutto quello che abbiamo a disposizione è la distanza fra i ripetitori ed il segnale mobile che in questo caso è la luce. Adesso il problema è come riusciamo a localizzare la lampada conoscendo solo la distanza degli accendini e l'elevazione angolare dell'ombra proiettata degli stessi. Vado a mostrarvi come funziona se l'autocad e poi facciamo lo stesso col Sole. Ok, qui vediamo esattamente quello che si vede sul tavolo. Stesse distanze. Osservate le distanze e paragonatele a quelle che vi mostro sul foglio. Cerco di farlo lentamente in modo che possiate seguirmi. Pertanto cercate di fare molta attenzione perché in seguito lo farò più velocemente quando andremo a misurare le distanze del Sole sulla mappa mondiale. Questi sono gli accendini. La lampada è da qualche parte ma per ora non siamo sicuri dove sia. Vado a cancellare queste linee perché non ne abbiamo più bisogno. E adesso vado a disegnare la forma di cui vi ho parlato. Questa figura mantiene lo stesso angolo per 360 gradi. Non è necessario chiudere la figura per il motivo che sappiamo che la lampada si trova nel mezzo. Ricordiamoci che stiamo triangolando la lampada. Adesso ruotiamo la figura verso il centro. Ecco fatto. Vado ad allargare un cono un po' giusto nel caso ne avessimo bisogno. Adesso facciamo lo stesso con il punto B. Ecco fatto. E adesso ruotiamo la figura. E come vedete intersechiamo gli archi. La lampada deve trovarsi da qualche parte su questo arco. Adesso per localizzare la lampada dobbiamo disegnare la terza figura. Ecco fatto. Coloriamo in modo differente le figure così potete capire meglio. Vedete? Si intersecano in un solo punto. Questo punto è la lampada. Ecco qui. Questa è la nostra lampada. Ora tutto quello che dobbiamo fare è misurare la distanza dalla lampada al suolo e poi confrontare quello che ho misurato nella realtà. La distanza esatta è 35,44 cm e quella approssimativa era 35,50 cm. Questa piccola differenza non ci sarebbe stata se avessi misurato la distanza dal tavolo al centro della lampada e non della calotta perché le linee vanno al centro e non sulla calotta. E adesso prima di proseguire sulla mappa vediamo esattamente la distanza del sole rilevando le esatte distanze di Google Map. Scegliamo tre città, Madrid, Città del Capo e Ushuaia. Iniziamo con Madrid e Città del Capo. Questa è la distanza fra le due città. Andiamo a riportare esattamente questa distanza su AutoCAD. E ora prendiamo la distanza fra Madrid e Ushuaia. Ecco fatto. Disegniamo un cerchio col raggio di questa distanza. E adesso vediamo la distanza fra Città del Capo e Ushuaia. Ecco qui. Adesso disegniamo un altro cerchio col raggio di questa distanza. Fatto. Ora abbiamo tre città disegnate su AutoCAD. Scriviamo rapidamente i nomi delle città. Madrid, Ushuaia e Città del Capo. A questo punto dobbiamo disegnare queste linee verticali necessarie per ricavare le forme di cui abbiamo parlato prima. Ecco, questo è come appare. A questo punto dobbiamo aggiungere tre cerchi che è quello che ci serve. Voglio che facciate un controllo. Vedete questo? Questa è l'altitudine del Sole o l'angolo di elevazione solare. E questo è quello che andremo a disegnare in AutoCAD per localizzare il Sole. Nello stesso tempo vado a fare questo nuovamente in una proiezione cilindrica sulla mappa giusto per vedere. Questa è Città del Capo. Vado a cambiare l'ora sulle due del pomeriggio tempo di Madrid mentre a Città del Capo sono le tre. L'elevazione è di 57,86 gradi. Andiamo avanti e disegniamo questo angolo in AutoCAD 57,86 gradi. Bene Andiamo a vedere Ushuaia 31,89 gradi Dobbiamo farlo velocemente Ok, fatto. E adesso Madrid 33,06 gradi Controlliamo se è corretto Bene E adesso andiamo a disegnare quella forma che mi piace molto Facciamo velocemente Potete visualizzare al rallentatore per vedere meglio Come vi ho detto prima questa forma è necessaria per sostituire la bussola ma per me l'Azimot è più preciso è più facile da fare E adesso andiamo a fare una bella cosa Andiamo a cambiare i colori così Questa è la posizione del Sole Disegno una piccola sfera con un raggio di 55 km per mostrarvi quanto appare piccola rispetto alla Terra E a questo punto disegniamo le distanze o meglio la distanza dal Sole al Suolo 4561 km 4561 km Quindi se le distanze fra Madrid città del Cap e Usuario sono corrette anche la distanza del Sole è corretta Questo è come appare il Sole sulla Terra Piana Apriamo la mappa della Terra Piana in AutoCAD e vediamo se può lavorare oppure scegliere una proiezione cilindrica Ecco fatto Ora vado ad inserire la distanza fra Madrid e Città del Capo più precisamente possibile Come vedete è praticamente la stessa Il problema se misuriamo la distanza fra Città del Capo e Usuario questa istanza è decisamente esagerata E non si può lavorare su questo Controlliamo la distanza fra Madrid e Usuario Sono sicuro che anche qui abbiamo una distanza esagerata Ecco qui Quindi non si può lavorare su questa mappa Tuttavia si può lavorare su questo per un momento fin tanto non abbiamo una mappa curata della Terra Piana Inseriamo una linea verticale sul cilindro di ogni città Credo che avete notato che le linee non appaiono esattamente nella giusta posizione ma non preoccupatevi per questo è solo un problema grafico Tutto è nel posto giusto e ben organizzato una volta zoomato Vedete questo è il centro di Città del Capo lo stesso vale per Ushuaia e Madrid A questo punto diamo un'occhiata anche a Madrid La distanza fra Madrid e Ushuaia non è esatta Questo lo sappiamo perché la mappa non è accurata La sola distanza corretta è fra Madrid e Città del Capo Ora iniziamo a misurare la distanza del Sole Questa è l'angolazione del Sole a Madrid 33,06 gradi Fatto Adesso verifichiamo Perfetto Adesso spostiamoci a Città del Capo 57,86 gradi Vado a disegnare nuovamente gli stessi angoli e adesso scriviamo 57,86 gradi Andiamo a vedere se è giusto Vediamo un attimo Ok è perfetto Muoviamoci nuovamente e rapidamente su Ushuaia Cercando di essere rapidi 31,89 gradi Controlliamo se è corretto Ok E adesso diamo un'occhiata al disegno Credo che abbiate un'idea di dove si trova il Sole Ora desidero mostrarvi altro State con me È arrivato il momento di localizzare il Sole con la splendida figura che conoscete Vabbè non dovete addormentarvi Seguitemi Cerco di fare meglio che posso Bene Ora cambiamo i colori È lì è dove dovrebbe trovarsi il Sole Eliminiamo le forme per vedere quanto appare piccolo il Sole Per la cronaca qui il Sole ha un raggio di 55 km Vi mostro la distanza fra ogni città dal Sole per soddisfare la vostra curiosità Questo Questa è la distanza è il Sole È come triangolare il Sole o la Luna o ogni corpo luminoso nel cielo A questo punto voglio disegnare il percorso del Sole e come calcolare la sua velocità Tutto quello che dobbiamo fare è cambiare l'ora dalle 2 alle 3 pomeridiane ora spagnola non cambiamo data ovviamente Qui proprio triangoliamo il Sole e la sua velocità E qui dalle 2 alle 3 pomeridiane ora spagnola sono andato un po' più avanti L'elevazione angolare di Usuaia è di 39,65 gradi e andiamo a scrivere qui 39,65 gradi Ci spostiamo su città del capo dove l'elevazione è di 46,11 gradi Pertanto qui andiamo a disegnare l'angolo di 46,11 A questo punto vediamo che l'altitudine di Madrid è di 29,72 gradi Andiamo a scriverlo qui E' perfetto E adesso liberiamoci delle precedenti linee non sono più necessarie Andiamo a disegnare le forme La procedura la conoscete giusto? Questa è la prima questa è la seconda e questa è la terza giusto? E adesso vado a colorare nuovamente le forme Qui vado a creare una sfera della stessa grandezza dell'altra di 55 km di raggio Andiamo a cancellare le linee che non sono necessarie Questo è quello che ci aspettiamo Vedete il secondo sole? Andiamo a verificare la stessa cosa fatta prima per vedere la localizzazione del sole rispetto al terreno E adesso vado a disegnare una linea da questo punto al sole Come potete vedere queste altitudini sono praticamente simili Possiamo dedurre che il sole cambia altitudine o che la mappa non è accurata oppure tutte e due ma penso che non essendo accurata la mappa l'altitudine rimane la stessa A questo punto andiamo a misurare la velocità del sole La distanza fra il primo e il secondo sole è la velocità che esso compie in un'ora Quindi la velocità del sole è di 2184 km orari Questo è un numero approssimativo perché la mappa non è accurata Ok? Se riusciamo a disegnare una mappa accurata possiamo rilevare la velocità esatta e le distanze precise con tolleranza di errori pari a zero Abbiamo visto le ore 14 e 15 Ora andiamo a verificare le ore 16 Iniziamo con Madrid Ho già cambiato l'ora sulle 16 l'elevazione è di 23,61 gradi Ci spostiamo su Città del Capo e l'altitudine è di 33,78 gradi Disegniamo l'angolo E adesso andiamo a fare la stessa cosa su Ushuaia 46,03 gradi Andiamo a disegnarlo qui Come sempre andiamo a disegnare quella bella forma che conosciamo Vado a disegnare un'altra sfera qui con lo stesso raggio delle precedenti Ancora una volta ci liberiamo delle linee che non sono necessarie e andiamo a vedere la posizione sulla Terra Vediamo e notiamo una grande differenza sia nell'altezza che nella velocità e questo è quello che mi aspettavo a causa della mappa Come potete vedere siamo in grado di rilevare perfettamente il percorso del Sole e misurare la distanza di ogni singolo corpo luminoso nel cielo usando questo potente incredibile software A questo punto andiamo a confrontare le distanze del Sole da Madrid dalle 14 alle 16 Come potete notare alle 16 la distanza è di 1609 km più lontana che alle ore 14 questo significa che più il Sole si muove verso ovest più si allontana da Madrid fino a scomparire Questo può spiegare molte cose a voi o no? Questo è come ho misurato la distanza del Sole e questo è come andrò a realizzare una mappa accurata della Terra Piana Il modo con cui abbiamo triangolato il Sole da tre città sulla Terra è lo stesso metodo con cui andiamo a triangolare una città da tre luci nel cielo o da tre posizioni del Sole Nel prossimo video andrò a spiegare meglio questo perché necessito di aiuto dalle persone da tutte le parti del mondo specialmente designer grafici architetti produttori video professionisti disegnatori grazie di aver guardato